Lo ribadiamo ancora una volta, le palesi sviste arbitrali dell'ultima partita non devono rappresentare un alibi, sarebbe un grave errore. Due punti nelle ultime tre gare, da qualche settimana è diventato sin troppo facile fare golle ai Biancazzurri. Una squadra che pensa di voler vincere il campionato non può lasciare a pochi minuti dalla fine, in inferiorità numerica, 40 metri di campo alle spalle dei difensori centrali. Quanto accaduto in occasione del rigore del 2-3 della Reggiana, che per inciso è scappata, più 8 sul Delfino dopo il quinto successo consecutivo conquistato nell'anticipo ai danni dell'Olbia. Alla luce degli ultimi risultati, Memuscia e i compagni sono scivolati al sesto posto. Urge dunque migliorare presto l'organizzazione in fase di non possesso, ma anche la qualità del gioco. Il Pescara appare involuto. Sotto questo profilo, Chiavari tappa significativa. Out, Drudi e Valdifiori squalificati di Gennaro e di Ambo. In Liguria anche Rizzo, che sembrava tra gli esclusi per un fastidio. Autari pare intenzionato a confermare il 3-4-3, prima da titolare in campionato per il 19enne portiere Alessandro Sorrentino. Cancellotti in grosso e Ianes nel cuore della difesa. Zappella in zita sulle fasce. A centrocampo il rientrante Pompetti e Memuscia. Davanti Clemenza e Dursi, a supporto di uno tra Ferrari e De Marchi, col primo in leggero vantaggio. Entel dal rendimento alto allenante, di certo inferiore alle aspettative. Già tre le sconfitte, tutte in trasferta contro Montevarchi, Gubbio e Pontedera. In classifica 10 punti, due in meno del Delfino e 12 gol subiti. Uno in più dei Bianchezzurri. Dal patron Gozzi, fiducia incondizionata al quarantenne allenatore Gennaro Volpe, che contro il Pescara dovrà rinunciare al contributo di Cleur, squalificato, e degli infortunati Chiosa, Morra, Pavic e Pellitzerra. Sono e sarò sempre credo al Presidente per la fiducia e l'opportunità che mi è stata concessa. Io cerco col lavoro, insieme al mio staff, di fare sempre il massimo e di cercare di portare l'entella dove merita. È chiaro che veniamo da una sconfitta che lascia sempre rabbia, delusione. Non dobbiamo portare questa delusione e questa rabbia sul campo contro una squadra forte. Quindi servirà un approccio che attiva la partita di una squadra che ha voglia di fare punti. Sistema di gioco 4-3-1-2, il probabile 11, paroni tre pali, in difesa di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, 37 anni, ex Inter, Milan, Sempedoria, Catania e Palermo. Dubbio a sinistra, Barlocco in vantaggio su Cicconi. Lex, Paolucci, vertice basso del triangolo di metacampo completato da De Sena, altro ex e Caric, tra le linee e schienette alle spalle di Lescano e di uno tra Morosini e Magrassi. Il Pescara non batte l'Entella da quasi sei anni, precisamente dal 12 dicembre 2015. All'Adriatico finì 2-0 grazie alle reti di Memusciai e Lapadula. In campo anche Volpe, ruolo centrocampista. A Chiavari un solo successo, il 28 febbraio 2015. La squadra, allora allenata da Marco Baroni, si impose nettamente per 5-2, tripletta di Sensovini, gol di Biarnason e Melchiorri. Per i padroni di casa, a segno, Lanini e Massucci. Quindi due pareggi, altrettanti KO, l'ultimo 3-0 il 27 dicembre dello scorso anno. Infine due curiosità. Il portiere dell'Entella, Andrea Paroni, quattordicesima stagione nel club Ligure, ha giocato due partite contro il Delfino, rimediando, pensate, ben nove reti, quattro il 4 ottobre 2014. Tripletta di Maniero e gol di Pasquato e cinque a punto nel match di ritorno. Il trequartista Andrea Schenetti ha realizzato quattro gol al Delfino, uno col Cittadella nel 2017-2018, tre con la maglia dell'Entella.